Bentornati! In questa seconda lezione approfondiamo alcuni aspetti dell'uso di Blender e in particolar modo inizieremo ad esplorare le varie opzioni messe a disposizione per personalizzarlo. Abbiamo visto la volta scorsa come sia possibile modificare e salvare diversi layout di lavoro. Tuttavia, richiamando un nuovo file di lavoro, torniamo sempre al punto di partenza. Ma se noi volessimo invece personalizzare la nostra interfaccia e renderla definitiva, in modo che questa sia quella che apriamo sempre, ogni volta che iniziamo un nuovo lavoro, Blender ci dà questa possibilità. Facciamo un esempio veloce. A me piace poter avere l'editor outliner alla massima sua dimensione, mentre mi fa comodo avere un piccolo text editor, vedremo poi più avanti di cosa si tratta, qui in alto sulla destra. Infine, a me piace tenere sempre in basso sotto la 3D View il Node Editor. Bene, diciamo che questa è la configurazione che piace a me e con la quale voglio sempre iniziare a utilizzare Blender quando apro un nuovo file. Come posso fare per fare in modo che tutte le volte questo file mi compaia quando premo CTRL N per iniziare un nuovo lavoro? Andiamo su File, Save Startup File. Diamo ovviamente conferma, vedete Blender ci chiede se siamo sicuri di voler salvare questo file come file di partenza, quindi d'ora in poi, tutte le volte che richiameremo un nuovo file, avremo sempre questa schermata che abbiamo deciso di salvare. Non vi preoccupate ovviamente se avete timore di provare, perché anche da questa situazione si può tornare indietro. Non è che adesso avendo salvato lo Startup File, Blender viene modificato per sempre. In qualsiasi momento potete tornare su Load Factory Settings per ritornare al punto di partenza. E quindi risalvando questo file come Save Startup File, d'ora in poi, riavremo di nuovo la configurazione originale. Andiamo ora a dare una prima occhiata alla finestra delle preferenze. La possiamo richiamare dal menu Edit, la vediamo come ultima voce. Le preferenze ci vengono mostrate in una finestra a parte e sono suddivise in diverse sezioni, a partire dall'interfaccia, i temi, il viewport e così via. Un aspetto molto importante della prima sezione dell'interfaccia è la Resolution Scale. Ci tenevo a far vedere perché chi ha necessità per motivi di vista, oppure perché ha dei monitor 4K particolarmente grandi, c'è la possibilità di scalare tutti gli elementi che compongono la schermata di Blender. Ad esempio, aumentando il valore, vedete che tutti i componenti vengono renderizzati, vengono ingranditi. Questo perché Blender ha un'interfaccia vettoriale e quindi abbiamo la possibilità appunto di poter vedere più grandi i pulsanti. Al contrario, se inseriamo un numero inferiore a 1, ci troviamo molto più spazio, ma abbiamo i pulsanti molto più piccoli. Questo può tornare utile a molte persone. Abbiamo poi tutta una serie di varie opzioni che vi invito a provare. Ad esempio, la possibilità di mostrare o meno la splash screen quando si avvia Blender, la possibilità di abilitare o meno i tooltips, i tooltips di Python. Questi sono molto utili per chi vuole cimentarsi nella realizzazione di script o di add-on. E così via. Abbiamo poi la sezione dei temi che ci permette di configurare tutti i colori di ogni singolo elemento dell'interfaccia. Sono tantissimi questi colori, perché magari uno non ci fa caso, però ogni minimo elemento ha un suo colore. Questi tutti piccoli dettagli possono essere personalizzati. Ci sono due preset, il tema scuro e il tema chiaro, che possiamo richiamare semplicemente selezionandolo, oppure possiamo sperimentare i nostri colori, installare degli schemi di terze parti e così via. Il funzionamento delle sezioni successive lo impareremo strada facendo, quando ci addentreremo più nell'uso di Blender. Vi faccio invece notare il pulsante, la sezione Add-on. Vedete che è anche un riquadro a sé stante, perché è una sezione molto importante. Qui abbiamo la possibilità di installare dei componenti aggiuntivi per Blender. Ci sono già tantissimi, compresi di serie, e tanti tanti altri possono essere scaricati da internet. Alcuni sono a pagamento, altri sono gratuiti. Quelli che abbiamo di serie vedremo più avanti. Alcuni che sono davvero utilissimi, come ad esempio il nod Wrangler, che avremo modo di utilizzare quando inizieremo a parlare di nodi. Nella sezione Input è importante sapere che esiste la possibilità di emulare il tastierino numerico, per chi non ha la tastiera estesa. C'è la possibilità di emulare un mouse a tre pulsanti, tramite questa opzione. Ci sono anche diverse opzioni per l'uso delle tavole grafiche con la sensibilità della penna. La sezione K-Map, molto importante, vi dà la possibilità di vedere tutte le abbreviazioni della tastiera presenti all'interno di Blender, ma vi dà anche la possibilità di modificarle. State attenti nel farlo, aspettate magari di essere già un pochino più esperti. Comunque ricordiamoci sempre che possiamo ricominciare, ricaricare il file di default. Quindi fate anche qualche esperimento se volete, perché tanto, come abbiamo già detto, potete tranquillamente ripristinare il punto di partenza. Dentro System abbiamo la possibilità di cambiare dei parametri inerenti alla scheda grafica e l'audio. E quindi abbiamo le opzioni per salvataggio e caricamento dei file, i percorsi, che comunque, come per tante altre opzioni, avremo modo di parlare più avanti. Quando avete terminato di cambiare una preferenza, avete la possibilità di salvarla, cioè salvare tutte le preferenze che avete modificato, facendo clic su Save Preference, oppure potete abilitare la casellina Auto Save Preference, per fare in modo che tutte le volte che fate un cambiamento, questo viene salvato in automatico. Facendo clic su Load Factory Preference, ritorniamo ad avere le preferenze appunto di default. Bene, io vi invito un po' a esplorare queste opzioni. Abbiamo visto come recuperare il punto di partenza, ritornare da capo, quindi non abbiate paura. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito. E ci rivediamo presto.